Francesco Esposito, a Iesi viene fuori un pareggio, insomma ti sei inserito molto bene in squadra da quando sei arrivato. Abbiamo preparato molto bene la partita in settimana, ce l'eravamo detti che era fondamentale portare a casa un risultato positivo per dare proprio continuità al risultato di domenica scorsa. È chiaro che abbiamo avuto un periodo, diciamo così, di molta difficoltà nella settimana passata. Prima della Vispesaro e per noi era fondamentale questo risultato positivo. Abbiamo provato entrambe le squadre a vincere la partita ma alla fine è arrivato un buon punto, secondo me meritato da entrambe le parti. La partita è stata molto equilibrata, noi siamo partiti molto forti perché il campo di Iesi, lo sappiamo tutti, è un campo difficile e devi stare subito concentrato nella partita perché come molli un attimo rischi di prendere gol. Infatti dopo l'1-0 nostro sono stati bravissimi loro a recuperarla e poi c'è stato un ampio equilibrio da entrambi le parti. Noi attaccavamo e rischiamo di far gol come loro, hanno rischiato moltissimo col calcio di rigore, è stato bravissimo il nostro portiere a parare. Le mie caratteristiche sono quelle di inserirmi senza palla, quindi preferisco una posizione più avanzata, però sono sempre a disposizione del mister e sempre pronto a dare il mio contributo anche centrale nella posizione di mediano e in queste ultime partite abbiamo fatto molto bene pure così.